ragazzi poi uno dice che guarda la televisione fa male è vero anche youtube fa male che ho visto e l'avete visto che voi immagino il filmato dell'omar si è fatto sti 120 chilometri di corsa in 28 ore mi sono messo che sono fuori da quasi un'ora ho fatto tre chilometri certi idee non devono venire capito fa male guardare la tv poi lui fa 20 chilometri faccio mattina e c'è un problema cos'è una cosa normale aveva saluti se mi ritrovano 4 in mezzo ai campi esteso colpa vostra è